Sono più di 100 le uova donate dalla polizia municipale ai bambini del rione Vasto. All'esterno della chiesa del Buon Consiglio, che ha collaborato all'iniziativa, i caschi bianchi hanno regalato un momento di felicità ai bimbi di un quartiere attanaiato da molte difficoltà. Per finanziare la campagna solidale, gli agenti dell'unità operativa San Lorenzo hanno fatto produrre due diversi modelli di bracciali con la scritta «Uniti si vince», il loro motto. I gioielli sono stati poi comprati stessi dagli agenti, che hanno così finanziato l'acquisto delle uova. A consegnare i dolci all'esterno della parrocchia il comandante Ciro Esposito. Il quartiere Vasto è un quartiere in cui noi spendiamo quotidianamente tante risorse, perché Travia Firenze, Piazza Garibaldi, Porta Nolana siamo costantemente presenti. Talvolta ci capita di essere aggrediti nello svolgimento delle nostre attività, ma noi rimaniamo fermi sui nostri punti. Insieme possiamo riaffermare la legalità in questi posti. È un momento di solidarietà. Fa anche comprendere che noi non siamo quelli che fanno i verbali o fanno solo i sequestri, ma quelli che sono vicino alla gente e alla nostra collettività. Presente in rappresentanza di Palazzo San Giacomo anche l'assessore alla legalità Antonio De Jesu. Non c'è solo repressione, ma c'è anche una visione di prossimità con il quartiere. Il quartiere è migliorato moltissimo, c'è stata necessaria una fase di repressione, ma oggi vogliamo dimostrare con i fatti un piccolo evento, ma è un evento molto bello, che avvicina la Polizia Municipale alle persone, alle comunità.